Amici bellini, amiche belline, benvenuti, bentornati insomma, dobbiamo parlarne, lo so che voi mi vedete così e chi mi segue su Instagram già lo sa, ma boh vi spiego tutto Non si può non parlare di questa partita, nonostante credo che molti di noi ne farebbero a meno Invece noi cominciamo Allora, con tutta calma, calma, perché ieri il video è stato un po' uno sfogo, bisogna dire Sfoghi calmi, non è che rompo i piatti Luigi Taglialatela, un cognome importante, benvenuto, benvenuto Luigi Taglialatela, benvenuti tutti i nuovi iscritti, mi perdonerete se non siamo riusciti ad andare live ieri Il che fare, come si può vedere ancora, perché io poi ieri sera dovevo fare questo video qua Ma mi sono addormentato sul divanetto, il divanetto funziona per i pisolini Devo dire che è proprio importante E quindi mo, capite, piano piano, il tempo che è, mi devo struccare, non ho nemmeno le cose per lo strucco E vediamo poi quando andiamo live, però se mettete i like preventivi, altrimenti non vado live Creo l'anteprima, ma 500 like su questo video qua ci devono stare Perché dobbiamo rianalizzare un pochino quello che è successo Tatticamente, tecnicamente, psicologicamente Io mi sono messo la maglietta di Robin Robin era un supereroe, in qualche modo, senza grandi superpoteri Col mantello, se non andiamo errati, che però alla fine aiutava Lasciamo perdere queste cose qua Ambra bam tattico E ci spostiamo su una formazione che io, mio malgrado Ho indovinato 11 su 11 Per un motivo molto semplice Era semplice da individuare Viste alcune assenze chiave E visto anche che Spalletti ci ha dimostrato di avere delle gerarchie in testa ben precise Ben 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 delineate E lui ce l'ha detto proprio, quindi non è che ve lo sto dicendo io La presenza di alcuni giocatori che l'anno scorso giocavano di meno È dovuta a degli infortuni È pura, non voglio dire casualità Però sono stati determinati da alcune defezioni Quando noi sappiamo che abbiamo Goulam in panchina sempre lì a fare il porta fortuna Voglio dire, uomo spogliatoio Che sicuramente rispettato Ma non gioca perché non è in condizione Allora Spalletti ci può dire Colpa mia, dovevo farlo giocare di più Ma noi non ci crediamo Perché sappiamo che un Goulam in forma Anche un Goulam al 70-80% Rispetto a un Mario Lui che sta overperformando Ricordiamolo sempre che Mario Lui sta facendo un campionato all'altezza di Di Lorenzo Se non migliore nelle prestazioni, in alcune prestazioni Gioca Goulam Quindi noi sappiamo Perché quando noi dobbiamo parlare delle responsabilità di Spalletti Di alcuni giocatori perché ho degli screenshot Il primo screenshot non è questo qua Il primo screenshot deve essere questo E adesso ne parliamo tranquillamente Però dobbiamo anche chiamare in causa tutti Questo è un déjà vu, è un déjà vu perché noi ci ritroviamo ogni anno molto spesso A dire ma è colpa dell'allenatore Ma è colpa dei giocatori O è colpa della società E mettiamoli tutti nel calderone Sapete perché? Perché quando si vuole lottare per lo scudetto E si hanno velleità di essere i migliori nella propria nazione Perché lottare per lo scudetto significa arrivare primi Significa lasciarsi alle spalle Per dei meriti altrui o per meriti propri L'Inter, la Juventus, l'Inter L'Inter, la Juventus, l'Inter Il Milan, la Lazio, la Roma, la Fiorentina Tutte le sorelle eccetera eccetera Arrivare primi significa essere i migliori Oppure significa che sono successi dei cataclismi esagerati Per essere i migliori bisogna fare un percorso Che di solito è lungo Molto spesso si fa anche il percorso E non ci si riesce un po' per sfortuna Un po' per meriti altrui Fare il percorso significa coprire tutti i buchi Vi faccio un esempio Che nessuno ci sta pensando E secondo me va pensato Manolas Si è deciso di lasciare andare Manolas Si è preso Tuanzebe Che sta più infortunato che altro È un errore della società grave Gravissimo Gravissimo Perché? Perché K2 va in nazionale E si sa, già Non è che è un imprevisto Si sa che quando si torna dalla Coppa d'Africa Si torna così e così Si torna così e così Mentalmente, fisicamente K2 è stato uno dei peggiori probabilmente ieri Ma Gesos invece ha overperformato quest'anno Rachmani Ci aveva un po' di febbre Ne Un Manolas O un sostituto di Manolas Non ti poteva tornare utile anche ieri in questa partita Sì È questo Napoli, questa Rosa Una squadra in grado di vincere lo Scudetto? No No A partire dalle scelte Alcune scelte Obbligate anche della società Non hai soldi, non lo posso fare Se io mi smuovo, fallisco Va benissimo E per la prima volta la società è stata anche chiara Chiarissima In queste cose Quindi Bene Bene Essere onesti intellettualmente Anche un allenatore che mi è piaciuto quest'anno come Spalletti Io gli chiedo delle cose Bene Chiedere Da chiedere conto a Fabian di una cosa del genere Chiedere conto allo Zano di una cosa del genere Che sono due giocatori che quest'anno mi sono piaciuti E gli devo chiedere conto Chiediamo conto anche alla società di alcune scelte Perché è odersine sinistra Ma sappiamo che adesso stiamo scoprendo Zanoli Perché Malquit non viene visto E quindi ragazzi ci sono una serie di cose Che non funziona Che non funziona Andiamo con calma A vedere La formazione è così Se noi andiamo a vedere le posizioni medie Zienischi era sempre ibrido qui Ma era più sottopunta che mezzala Per quello che ci fanno vedere le posizioni medie del report della serie A Poi è chiaro Ogni tanto i giocatori non sono immobili come nel biliardino Quindi ogni tanto succedeva questa situazione qua E lo bot che veniva spesso preso da solo Perché non mi sono piaciute Nelle prestazioni di Fabian Nelle di Zienischi Onestamente Sono stati presi un po' in mezzo Dopodiché facile individuare la linea A4 della difesa E poi Politano in signa Edo Simen davanti Sembra questa situazione qua Nel primo tempo Questo in nome di un equilibrio incredibile Comunque il golo lo pigliamo E per sfizio Vi faccio vedere questa diapositiva Che non è qua Non è questa Ed è questa qua Dove onestamente Nessuno mi parli E anche Spalletti Spalletti che dice il fallo non fallo Su Mario Ruiz Si vede Si appoggiano schiena contro schiena Non esiste proprio Anzi Io sottolineo di nuovo Che K2 doveva essere ammonito nel primo tempo Non doveva essere ammonito E in questa situazione Che salta con Cabral Non succede niente Coulibaly sviene la prima volta Invece di rialzarsi subito E rimettersi in marcatura Chiede un po' Sai così Ma guardate come Mario Ruiz Alla fine distinto Perché salta insieme Insieme a Koulibaly Mario Ruiz distinto Se la porta un po' presso la maglietta Cabral non cade Non fa così Però qua abbiamo rischiato anche Che se non si fosse Poteva anche esserci Pricord Questo per essere estremamente onesti Nell'analisi Attenzione Su questa cosa di Fabian Io ne ho presi due di screenshot Perché da qui Uno con il suo tiro Se tu vedi il fermo immagine Tu dici Ma lo mette Tra portiere e Igor Alza il pallone E sta lì A proposito Ringraziamo sempre Gerardo Marino Per il suo lavoro straordinario Su Telegram Lo trovate Dategli anche soddisfazione Da parte mia Mi manda Picone Da qui voi dite Ma com'è possibile Però Se voi andate a rivedere le immagini Che io non posso mostrarvi Nel momento in cui Fabian Fa il primo controllo E lì Potevi dire Forse un poco prima Ma comunque Per metterselo bene sul sinistro Fa un primo controllo Perde un tempo di gioco Igor E Milenkovic Fanno Quei due passettini E alla fine Glielo chiudono lo specchio Quindi per me L'errore Non è tanto non aver tirato Perché potevi essere murato L'errore sta nel passaggio Perché guardate Vedete come si è messo davanti Quando arriva sul pallone Fabian Igor E anche Milenkovic Ci hanno chiuso bene lo specchio E' qua Che secondo me Fabian Fa una cosa a metà Perché non serve Né Zielinski Con un passaggio brevissimo Bisognava lasciarglielo Il pallone a Zielinski Che con due passi Avrebbe avuto lo specchio davanti Oppure lo fai forte Verso Simen E dietro Simen Fidatevi di me Stava arrivando Anche Politano Quindi per me L'errore Più che il non tiro E' sul passaggio Pensate un po' di Michu Capito Michu Però secondo me Il passaggio Che non è stato ben calibrato Andando avanti Abbiamo visto la situazione Di Koulibaly Per il primo gol E quindi In nome dell'equilibrio Il gol Continuiamo a prenderlo E anche Koulibaly Lo ha detto E lo ha ribadito E ha ribadito O anche quando è entrato Driss Abbiamo aggiustato le cose La questione Mertens Mi sono scocciato Di parlarne Questo è assurdo Perché qua stavamo Sull'uno a uno Ragazzi Mertens aveva già segnato Mertens aveva già cambiato Le sorti di questa gara E fa giocare meglio Anche Oseman Perché Se Oseman viene incontro E poi nessuno si butta dentro Perché Insigne Non ce l'ha come caratteristiche Politano non ce l'ha come caratteristiche Lo Zano ce l'ha Però non stava giocando Nel primo tempo Oseman viene incontro E Mertens si butta dentro Perché la Fiorentina Questa soluzione Te la concede Giocando aggressivo Uno contro uno E Oseman Che passa il palone All'Ozano Fa un bel movimento E fa un passaggio preciso Se qua L'Ozano La dà di prima Se qua L'Ozano La dà di prima E due a uno Per il Napoli Al 99% Con Mertens Che va da solo In porta Da solo Invece L'Ozano La controlla La controllerà E cercherà Un passaggio A scavalcare Quasi il difensore A metà Tra un tunnel E un passaggio Ad aggirare Avvolgente Quando invece Ce l'avevi proprio E dire Questo Quello di Fabian Ma questo Non lo riesco Proprio ad accettare Non lo riesco Ad accettare Perché sì È giusto Dire Chiedere a Spalletti Perché Mertens L'equilibrio Eccetera eccetera E alcune scelte Che uno non condivide Però ragazzi miei E diamo Un pochino Di responsabilità Anche a questi qua Perché poi L'Ozano ci deve dire Senti io voglio giocare Per una squadra Pi' importante E i passaggi elementari Li devi fare anche Nella Cremonese Di Gaetano E non scherziamo Proprio Non scherziamo Proprio E l'ultimo screenshot E qui Dove voglio Scaggiorare Un pochino Zanoli Perché Avviene quella cosa Di Mario Rui Che insomma Probabilmente Poteva Temporeggiare Contatto Culo a culo Con il suo avversario Che mi pare Fosse Nico Gonzales Di conseguenza Deve scalare Tutta la difesa Ed è giusto Che si trovi Poi Coulibaly A chiudere lì Che però Chiude Mollo Diciamolo Chiude Mollo Quindi deve scalare Rachmani Deve scalare Anche Zanoli Non c'è dubbio E qui Io devo capire E non si vede Dallo screenshot Bisognerebbe tornare Indietro con l'azione E lo Zano E lo Zano Che secondo me In questa fase Deve seguire L'esterno della Fiorentina Perché tutti sono scalati E ovviamente Vedi stanno tornando Anche Zielinski E Lobot Su questo Volevo scaggionare Zanolo Perché parliamo sempre Dei Quinti Che vanno sui Quinti E di Lorenzo Che accorcia molto spesso E' un gol Classico Che prende il Nato Quindi quando Spalletti Dice Ma non sono i gol Sono tutti diversi Non sempre Questo gol qua E' un gol classico Che si prende Facile vedere Come cambia La formazione Nel secondo tempo Entra Lo Zano Non cambia niente Qua Mertens E questa era la formazione Che avevo fatto così Così me ne resta in campo Ovviamente Entra Mertens Al posto di Fabian Scala Zielinski Poi entrerà Demme Poi entrerà Goulam Non cambia nulla Entra Gelmas Ma siamo veramente A fine partita Io direi Che è arrivato il momento Luciano E' arrivato il momento Perché non abbiamo Niente da perdere Non c'è più Anzi Abbiamo la Champions Da perdere Quindi Non mi aspetto Nemmeno che adesso Improvvisamente Vai Mertens O Simen In gamba Elmas Tutti insieme Non me li aspetto Però c'è la Roma Il Milan addirittura E' riuscito anche A pareggiare Quindi non se ne è scappato Il Milan Il Milan aveva veramente Un match point Per mettere pressione All'Inter Che ricordiamo Purtroppo Ha una partita in meno E ha il vantaggio Con noi Sugli scontri diretti Milan è 68 Inter Virtualmente a 69 E Napoli a 66 Attenzione A quelle che ci sono dietro Però Io credo Che il quinto posto Se non perdi Perché c'è proprio la Roma Che la Roma Attualmente Se non sbaglio E' a 9 punti E quindi Se tu Vuoi anche dare alla Roma Unasco 3 punti Che poi se li prende Da te E diventano 6 Panico generale Io non voglio crederci Io voglio sperare Che questi giocatori Ci tengano Anche alla Champions League Che non diano tutto Solamente Perché non credo Che ci fosse mancanza Di voglia Non credo Anzi Lo stesso Insigne Che non mi è piaciuta La prestazione L'ho visto voglioso Nel primo tempo Però O pallonette col destro Quando ti sta arrivando La palla così Se tu la fai scendere E tiri una botta Di sinistro Eh ma Quello non è il suo piede Eh ma Sei un giocatore Che va a pigliare 10-15 milioni All'anno In America Vuol dire che Se ti cade un pallone Sei solo Lo puoi prendere Anche con l'altro piede Non è possibile Altrimenti il Toronto È pazzo Può essere Che siano pazzi E costruiranno Tutta una narrativa Sull'italiano all'est Ma questo non ci interessa Perché noi siamo tifosi De una squadra azzurra Non rossa R come rossa Non il Vari Non il Toronto Non Con squadre Granata Salernetana Torino No Però Diamo merito al Torino Che ha fatto una partita I Bremer Mamma mia che guerriero Ha fatto una partita A Gagliarda E non ci stava Ad essere vittima Sacrificare del Milo Questo campionato È brutto Cioè è bello Attenzione Attenzione Diciamolo bene È anche bello Immaginate uno esterno Che si guarda Questa lotta al vertice Dove tutti cadono E nessuno vince È anche avvincente Sotto questo punto di vista È avvincente Mediocre però Me lo dovete concedere Perché questa media punti Che si vedrà Uno scudetto Verso gli 83 85 Anche 82 81 Probabilmente si vincerà Questo scudetto È assolutamente mediocre Quindi Non ci siamo Perché poi andiamo in Europa E facciamo brutte figure In Norvegia Quindi non ci siamo Però Vediamo Chi se lo vince Lo vince Ha vinto un campionato strano Un campionato dove Si poteva fare E tutte le squadre Dovevano fare di più Ma non ci interessa Da New York Valerio Fluido È tutto Io spero di essere Sicuramente Sono andato a braccio E voi potete dirmi Quello che volete Al riguardo Vediamo La prossima Prudenza Prudenza Un po' di paura Un po' di paura Voi avete paura Che usciamo Dalla Champions League O no? Ciao Sono Saveria Solida Se arriviamo A 15.000 Iscritti Su Youtube È una cosa Di cortesia Ma secondo me Dovreste seguirlo Anche su Instagram At Valerio Fluido Fa tutte queste cose Credi Sei iscritto pure A TikTok Nienti più Dai Basta Basta Sei cringe Quante cose Grazie a tutti Grazie a tutti